Aeroporto di Fiumicino Blindato, questa mattina per la partenza di Papa Francesco. Bergoglio ha deciso di andare in Africa, nonostante i numerosi rischi per la sua incolumità. Anzitutto l'allarme dei servizi segreti francesi per i possibili attentati. I credenti e gli uomini di buona volontà sono chiamati a rispettarsi e comprendersi reciprocamente, ha detto nel messaggio rivolto ai fedeli di Kenya, Uganda, Repubblica Centroafricana, alla vigilia del viaggio. Grande folla prevista per la prima tappa a Nairobi, dove atterrerà oggi pomeriggio. È cattolico il 50% della popolazione che vive nei tre paesi segnati dalla povertà, dagli attentati terroristici di Al-Shabaab. Tra i più sanguinosi, la strage al Garissa University College in Kenya, dove furono uccisi 148 giovani, soprattutto cristiani, che saranno ricordati venerdì allo stadio. Pace, lui vuole la pace tra le religioni, lui vuole che le persone vivano in armonia, dice uno dei parroci di Garissa, e di pace ha bisogno soprattutto il centro Africa, in piena guerra civile. È la tappa del viaggio più pericolosa. Qui Papa Francesco aprirà la porta santa che darà ufficialmente inizio al Giubileo, un gesto simbolico in un paese segnato dai conflitti religiosi. Papa Bergoglio si rivolgerà poi agli ultimi, visiterà il quartiere povero di Kangemi a Nairobi e il campo profughi di Bangui, in Uganda. Nonostante le difficoltà di ogni giorno, queste donne attendono con il sorriso l'arrivo di Francesco. Gli hanno preparato una veste papale in stile keniano, sicure che si farà contagiare dai loro colori e dalla loro allegria.